Questa è la storia di Sasso Picasso. Picasso era un sasso. Era piatto, liscio e un po' rotondetto. Picasso viveva lungo la strada, a pochi passi dal mare, e non faceva altro che lamentarsi tutto il giorno. Uffi, borbottava, sono solo una stupida pietra. Resto qui tutto il giorno a fissare il cielo, a sentire le onde del mare, le scarpe dei passanti. Non faccio nulla, non servo a nulla. Ma che hai da lamentarti tu? Picasso fece un gesto, quasi per voltarsi, ma si sa, i sassi non si muovono volontariamente. Sono io, il mare. Non capisco cosa da lamentarti tutto il giorno. Beh, non lo vedi? Sono un sasso. E allora? Che c'è di male ad essere un sasso? C'è di male che non sono buono a niente. Questa mattina, un signore, camminando col bastone inciampato su di me, è urlato Stupido, stupido, sasso! E ieri, ieri un gruppo di ragazzi mi ha lanciato su un povero cagnolino che mi ha mordicchiato tutto. Aveva anche i denti che puzzavano di formaggio. Ma su via, Picasso! Ma la colpa non è tua. Beh, se quel vecchietto è inciampato, è stato semplicemente distratto. E quel gruppo di ragazzi? Beh, quelli erano solo dei ragazzacci. Che gusto c'è a tirare i pietri a un povero cagnolino indifeso? Vedrai, Picasso. Un giorno capirai quanto ognuno di noi sia speciale, anche un sassolino come te. Bah, rispose perplesso Picasso, parli proprio tu che sei il mare. Sei così grande, bagni la terra, fai attraversare le navi. Sei la casa di tanti pesci. Io, io non ho nulla di speciale. Sono solo un sasso. Passato qualche giorno, un pomeriggio di primavera, un gruppo di ragazzi si trovò sulla spiaggia. Che noia, disse uno di loro. Non possiamo tuffarci e sono stufo di fare sempre castelli di sabbia. Il mare, ascoltando le parole del bambino, ebbe un'idea. Ma sì, chissà se con un sasso non inventino qualcosa. E allora il mare sollevò un'onda altissima e spinse Picasso verso di loro. Oh, mare, oh, aiuto! Oh, per poco non mi rompevo la zucca! Un bambino vide il sasso a terra sui piedi ed esclamò. Ecco, ho trovato! Possiamo giocare con questo sasso! Guardate che bello! Un sasso? Ma come? Risposero gli amici. Il bambino, con Picasso in mano, portò le mani dietro la schiena. Poi le riportò in avanti, tenendo i pugni chiusi. E canticchiò questa canzone. Un, due, tre, il sassolino non c'è. Un, due, tre, indovina! Dov'è? Vediamo un po'. Dove si è nascosto Picasso? Ah, è qui, 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 qui. È qui? Oh, eccolo, ma sì! Era nascosto qui. Il gioco piacca i suoi amici e Picasso, racchiuso in quelle mani così accoglienti, iniziava a non sentirsi più così inutile. Un altro bambino aveva dei pastelli lavabili nel suo zainetto. Propose allora di pitturare a turno il sassolino. Ognuno doveva indovinare cosa fosse diventato. Un bambino allora prese il sassolino, disegnò e lo trasformò. Oh, ho fatto un bel ritratto! Ma bravo! Un altro bambino prese i pastelli e lo trasformò. Gol! Io ho fatto una palla. E un altro bambino. Un sassolino. Oh, ma, ma, ma. Dei puntini? Ma cosa saranno mai? Indovinate! Indovinate che cosa è diventato nel sasso. Beh, vediamo. Un biscotto? Un biscotto con goccia di cioccolato? No! E allora è un mostro? Un mostro con tanti occhi! Ma no! Allora sì, sì, sì! È una coccinella! Una coccinella! Ma no! È la mia pizza! La mia pizza preferita! Alle olive! Il pomeriggio passò veloce con Picasso. Di lì a poco i bambini inventarono altri giochi, utilizzando anche più sassi insieme, fino a che non si fece tardi. Prima di tornare a casa, uno di loro tornò indietro. Prese Picasso tra le mani e gli sussurrò. Ehi, bel sasso! Fatti trovare qui domani! Mi hai regalato un pomeriggio fantastico! Picasso, per la prima volta nella sua vita, si sentiva veramente felice. Rimase meravigliato nel capire quante cose si potevano fare con un semplice sasso. Ehi, bel sasso!